Aurora Ramazzotti, influencer, content creator e conduttrice televisiva italiana, è in attesa del suo primo figlio, un maschietto, che arriverà presto. In una recente intervista con Vanity Fair, ha confessato di essere stata spiazzata dalla notizia e di aver avuto un po' di paura di diventare madre. Tuttavia Aurora Ramazzotti ha deciso di affrontare questa nuova fase della vita con serenità e determinazione, grazie anche al sostegno del suo compagno, Goffredo Cerza. Nonostante le preoccupazioni iniziali, Aurora Ramazzotti ha trovato il modo di affrontare la gravidanza con positività e di condividere la sua esperienza con i fan sui social media. Ha anche parlato del suo desiderio iniziale di avere una bambina, spiegando di aver avuto paura di non essere all'altezza di crescere un maschio. Tuttavia ha rivelato di avere molta fiducia in Goffredo, che lei descrive come una persona incredibile, un'anima antica intrappolata in un corpo giovane. Aurora ha anche svelato che molti dei suoi amici si sono stupiti della sua scelta di diventare madre così giovane, ma lei ha spiegato di non aver avuto esempi di matrimoni duraturi nella sua vita, e di non considerare il matrimonio una priorità al momento. In ogni caso Goffredo Cerza è diventato una presenza fondamentale nella vita di Aurora Ramazzotti, rappresentando per lei un porto sicuro in cui rifugiarsi. Voi cosa ne pensate? Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere tutti gli altri video.